In ostello accogliamo circa 180 persone. Accogliere vuol dire offrire un tetto, un pasto caldo, ma vuol dire anche accompagnare queste persone nel loro percorso sanitario e sociale. Ecco il perché di un ambulatorio all'interno dell'ostello. E allora vi chiediamo di sostenerci in questo impegno, aiutandoci nella costruzione dell'ambulatorio stesso, dandoci una mano nell'acquisto di tutto il materiale che è necessario affinché queste persone possono essere visitate e accompagnate nel miglior modo possibile. Grazie a tutti voi.